Ciao, questo è il settimo video del ciclo dedicato al calcare. In questo video parlo di un nuovo trattamento fisico per il mercato italiano, innovativo e praticamente sconosciuto, ma molto funzionale ed è usato per inibire il calcare nell'acqua. Spero che il video precedente abbia credito bene il discorso sul Poseidon, l'unico solubitore di calcare. Se avete domande in merito non esitate a scrivermi, sarò felice di rispondere a quesiti su questo argomento. Il sistema One Stop è progettato per proteggere l'impianto idraulico dalla formazione di calcare con una tecnologia brevettata denominata TAC. Il sistema One Stop è un trattamento fisico, quindi può essere installato al punto di ingresso dell'impianto, subito a valle del contatore. Inoltre può essere montato direttamente prima dei dispositivi dove è necessaria la protezione dalla formazione di calcare. Il segreto di One Stop è la composizione della sua media. Media è un termine tecnico con il quale si intende un insieme di sabbie di origine naturale, la cui formula, come nel caso di One Stop, è segreta. One Stop previene la formazione di incrostazioni, trasformando i normali minerali risciolti nell'acqua in microparticelle cristallizzate insolubili. Questa operazione è il brevetto denominato sistema TAC. La media ha la capacità di attirare dentro di sé il bicarbonato di calcio che, come già spiegato nel video precedente, si è appena scisso in carbonato di calcio a causa del naturale riscaldamento dell'acqua. Questo calcare, quando è all'interno della media, si compatta in microparticelle cristallizzate insolubili, per poi essere nuovamente espulso dalla media. Questi cristalli rimangono sospesi nell'acqua, inibendo la capacità del calcare di attaccare le superfici delle tubazioni delle caldaie o dei bollitori. One Stop non è un addolcitore, anche se la sua forma potrebbe ingannare i profani. A differenza dell'acqua addolcita, però, il sistema One Stop permette di mantenere i benefici essenziali dei minerali presenti nell'acqua e ne mantiene la potabilità. La media funziona in modalità Flow Up, ovvero deve galleggiare nell'acqua e per fare questo l'acqua deve andare dal basso verso l'alto. Nell'immagine si può vedere lo spaccato di un One Stop che mostra al suo interno un altro brevetto, il Vortex, che permette un miglior galleggiamento della media. Prima di installare un sistema One Stop bisogna verificare la pressione di esercizio, la temperatura dell'acqua e la sua composizione chimica per garantire la massima compatibilità con la media. Inoltre, è sempre consigliato l'installazione di una prefiltrazione di almeno 100 micron, o con un filtro topolente in acciaio o con un usegetta in polipropilene estruso o plissettato. Il sistema One Stop svolge egregiamente il suo lavoro, tanto che da questo momento il calcare rimarrà compresso in microparticelle insolubili che scorreranno via con l'acqua. Questo vuol dire che questo calcare non incrosterà né tubi, né caldaie, né scaldabagni, né resistenze elettriche, ma questo non vuol dire che non troverete più le macchie di calcare sui box doccia, sui rubinetti o sui lavandini. Però basterà un colpo di spugna o uno straccio per eliminarlo facilmente. Tutti i trattamenti fisici hanno questo inconveniente, ma come ho già detto, questo è per il bene della natura, quindi un minimo di impegno bisogna comunque mettercelo. Con l'installazione di un sistema One Stop, la durezza dell'acqua non cambia perché il calcare non viene eliminato, ma solo compresso in microparticelle. La media non necessita di corrente per funzionare, la manutenzione ordinaria sono la sostituzione del prefiltro a necessità e della media una volta all'anno o ogni due anni a seconda del sistema scelto e della durezza dell'acqua. Però la manutenzione è così facile che è possibile farla anche in autonomia. Bene, anche per questo settimo video è tutto. Aspetto i vostri commenti sull'argomento e perché no anche i vostri mi piace. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato e certamente mi farà molto piacere se vorrete condividere questo mio video. Grazie, vi aspetto domani dove parlerò di un altro trattamento fisico contro il calcare. Ciao!